Quando si taglia un nastro inaugurale è sempre un nuovo inizio e un nuovo inizio è sempre sinonimo di felicità, di gioia. Noi siamo un movimento territoriale autonomo e indipendente e combattiamo per la nostra terra, per il Salento e per la nostra comunità. Il Movimento Regione Salento apre una nuova sede a Zollino nel cuore della Grecia Salentina, un movimento radicato sul territorio salentino per dare risposte concrete e immediate ai cittadini. Noi siamo un movimento territoriale molto radicato nel Salento e quando si apre una sede, quando c'è un momento di questo tipo, di vicinanza alla comunità e ai cittadini per noi è veramente una grande gioia. La nostra ambizione è proprio questa, fare in modo che ci sia una partecipazione sempre più corale nel rapporto con i nostri valori, con il nostro movimento, con le nostre battaglie. Perché le nostre battaglie si vincolano se siamo in tanti. Quando la comunità si accorge finalmente che prima di ogni cosa bisogna combattere per la propria terra. Anche qui a Zollino abbiamo ritrovato gli stessi sentimenti e la stessa voglia di combattere per il Salento e questo a noi fa veramente un enorme piacere. Valori da trasmettere, per dare gambe solide ai progetti del movimento, per riempire di significati la parola partecipazione. Intanto a Zollino si guarda già al test elettorale del 2024. L'obiettivo è sempre lo stesso, portare avanti le battaglie per il territorio salentino. C'è stato anche un buon risultato alle regionali dove il nostro Presidente è stato eletto e anche come amministrazione il movimento Regione Salento è stato all'opposizione, ma un'opposizione costruttiva su alcuni temi, presentando una mozione sull'eolico e tante altre mozioni che sono state dibattute in Consiglio Comunale. Il movimento sarà presente anche alle prossime amministrative e prosicuriamo la battaglia sul territorio insieme a tutto il movimento Regione Salento.